Ciao ragazze, benvenute al solito appuntamento settimanale del topo della settimana più usati sempre in collaborazione con Federica, Dari Bruno qui su Youtube vi lascio giù nell'info box il link al canale di Fede dove potete trovare il video in collaborazione con me inizio col farvi vedere i 5 prodotti topo della settimana e questa settimana ho voluto includere all'interno di questa categoria anche due pennelli perché li sto adorando ed è il pennello da cipria della Essence della collezione limitata Blooming se non erro, non si vede perché comunque vedete è lilla non so se lo potete trovare, era già difficile da reperire quando è uscita figuriamoci adesso, mi sta piacendo tantissimo questo pennello perché è morbidissimo è davvero una coccola per il viso e applica la cipria dandogli un finish davvero molto bello molto naturale, non fa l'effetto mascherone, mi sta piacendo davvero tantissimo e poi ho inserito anche questo pennellino qui del set che ho preso da Semidress e sono i pennelli simili a Real Techniques questo qui è molto simile al buffing brush di Real Techniques o all'expert brush è davvero un ottimo ottimo pennello, lo utilizzo per applicare sia BB cream che fondi non lascia striature, le applico in maniera uniforme, è bello dal fondo alla BB cream anche un'ottima coprenza, mi sta piacendo davvero tantissimo poi come altri prodotti top vi faccio vedere la cipria di Glossip che applico con il pennello di Essence e l'effetto è davvero molto molto bello ed è la solita, nella colorazione 04 Golden Sunset mi sta piacendo davvero tanto tra l'altro fa parte del mio progetto smaltimento prodotti e quindi la sto terminando, infatti il buchino si sta facendo sempre più grande poi un altro prodotto che mi sta piacendo molto è questo mascara della Young Blood ed è un campionzino ed è questo mascara qui l'Ultra Juicy Luscious Mineral con questo nome diciamo impronunciabile mi piace davvero tanto perché allunga le ciglia poi ha questo scopolino che io sto davvero adorando anche per quando applico le ciglia finte perché insomma permette di far aderire le mie ciglia con la ciglia finta è davvero un ottimo ottimo mascara e mi piace anche perché è facile da struccare, non fa grumi lo applico anche sotto, allunga tantissimo le ciglia mi sta piacendo tantissimo poi come ultimo prodotto topo c'è lui il famigerato Perfect Face Multi Blush Cheeks più Lips Color e praticamente è il famosissimo blush di P2 con l'illuminante e le due tonalità di blush il dupe della Benefit praticamente vi faccio uno swatch vedete questo è il prodotto swatchato ed è una figata pazzesca lo sto adorando davvero lo applico davvero con contagocce perché è davvero bellissimo vi faccio vedere una volta sfumato l'effetto è davvero un ottimo ottimo prodotto poi dura tantissimo è davvero molto molto bello avendo anche l'illuminante all'interno praticamente dà al viso un tocco luminoso molto molto glow mi piace tantissimo poi ha questa colorazione rosa pescata molto molto bello devo dire la verità e dura davvero tantissimo adesso vi faccio vedere i prodotti che ho utilizzato di più nella settimana allora sempre come cipria ho alternato sia quella di Glossip che questa qui della Physian Formula che è una cipria illuminante in particolare l'ho utilizzata quando ho applicato i due fondi che vi faccio vedere a breve sono due fondi illuminanti questa qui è una cipria illuminante quindi ho fatto questa combo qui mi ci sto trovando davvero bene è un po' difficile da prelevare con il dito vedete questa qui è la cipria però mi piace mi piace sul viso dà al viso veramente un tocco luminoso bella 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 e la uso quando applico questi due fondi qui e sono il Vichy Tint Ideal nella colorazione 35 e il Wake Me Up il fondotinta di Rimmel fondotinta illuminante nella colorazione 203 True Beige quindi questa combo qui mi sta piacendo davvero tantissimo esce fuori davvero un'ottima ottima base poi per i trucchi insomma di tutti i giorni ho applicato la BB Cream di Garnier nella quella lì per pelli miste e grasse nella colorazione media e la adoro perché si stende subito non lascia striature è bella coprente è davvero ottima l'unica pecca di questa BB Cream qui è la profumazione perché si sente un pochettino l'alcol però è davvero super è un prodotto che sicuramente una volta terminato lo andrò a ricomprare perché mi piace tantissimo poi sempre come primer come base vi faccio vedere questo primer qui di Essence che ho usato anche per il tutorial che vi ho girato di questo trucco e mi sta piacendo l'ho comprata perché era un prodotto che praticamente andava fuori produzione e devo dire mi piace perché è una base trasparente in gel ed esalta moltissimo il colore dei ombretti che ci andate insomma ad applicare l'unica pecca è che dovete aspettare un pochettino che si asciuga insomma il prodotto per andare poi a lavorare con gli ombretti però è davvero un'ottima ottima base spero che la potete trovare semmai in qualche stand in quelle scatoline che mettono con i prodotti fuori produzione è davvero ottima molto molto buona non mi aspettavo davvero una resa di questo tipo poi come palettina ho utilizzato tantissimo questa settimana qui la Mua questa qui è l'Andress Me Too praticamente è la copia della Naked 2 è una delle palette che ho utilizzato davvero pochissimo e quindi l'ho voluto utilizzare ed è questa qui i colori sono molto molto belli molto scriventi e l'ho utilizzata anche per realizzare questo trucco e questa insomma è la palettina come potete vedere l'ho utilizzata davvero poco e quindi l'ho riscavata insomma dalla cassettiera per utilizzarlo un pochettino poi come eyeliner ho utilizzato tantissimo questa matita qua di P2 ed è la Perfect Look ed è un kajal e praticamente la utilizzo proprio come eyeliner questa qui ad esempio è la matita all'opera vedete come è bella nera intensa molto molto buona è waterproof quindi non rischia che vi si scioglie il trucco e vi fa quegli alloni neri bruttissimi quelle chiazzette nere orrende è davvero un ottimo ottimo prodotto e questa qui è Perfect Look Kajal non ha colorazione la 010 black poi vi faccio vedere i prodotti labbra che ho utilizzato di più in questa settimana ho utilizzato la combo che vi ho mostrato già in un altro topino ed è sempre la matita Perfect Look della P2 questa qui però è per le labbra lip liner ed è la 141 Volcano ve l'ho già mostrata in qualche altro topino e lo utilizzo in combo con il 58 no il 68 di Debbie il Mouler Rouge che è un bellissimo rosso matto ed è il dupe esatto del Ruby Woo di MAC e come potete vedere lo sto divorando questo rossetto ma lo adoro lo adoro troppo piace tantissimo questa combo cioè sembra che indossate praticamente il Ruby Woo vi da insomma un effetto tipo velluto sulle labbra è davvero un'ottima ottima combo poi altri due rossetti che ho utilizzato tantissimo in questa settimana sono due rossetti della Collection Professional della linea matto il primo è lo 08 che è un bellissimo nude lo utilizzo in combo con la matita di Wycon che mi sono scordata di prendervi comunque praticamente è lo stesso colore del rossetto ed è davvero un ottimo ottimo rossetto dura tantissimo è praticamente tutto tutto matto questo rossetto non è di quei rossetti che praticamente dovete aspettare un poco per avere l'effetto matto tipo quelli nuovi di Kiko che non mi ricordo come si chiamano questo qui una passata insomma avete le labbra completamente matto e lo 01 che è il Carmine se non erro ed è un altro colore bellissimo per me anche questo colore qui è un nude perché praticamente lo potete abbinare insomma un po' dappertutto davvero ottimo ottimi sì il numero 01 Carmine è questo qui il numero 08 MIT la luce non mi fa vedere comunque scritto MEAT lo 08 davvero i rossetti della collection professional questi qui matt sono ottimi di qualità davvero molto molto buoni e niente ragazzi questi sono stati i usati e i topini di questa settimana qui io vi mando un bacione fortissimo do un bacione fortissimo mando un bacione fortissimo anche a Fede e niente ci vediamo prossissimo nel prossimo video ciao ragazze ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti